Non si vede molto bene dietro, non si vede molto bene dietro, però dietro c'è Sir Roberto Dozerbi che parla di football alla BobboTV, perché ragazzi ci vuole sempre qualcosa di speciale, no? Dietro la mia faccia, dietro la mia testa, dietro la mia persona, quando parliamo noi di football e oggi ragazzi bisogna parlarne, però prima salutiamoci, salutiamoci, ho l'ermanito, sono Gia7 quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e parliamo di Jadon Sancho ragazzi parliamo di un qualcosa di assolutissimamente clamoroso perché se dovesse succedere una roba del genere io veramente non so, non so cosa potrei fare non so cosa potrei fare, il fatto assurdo è che io inizio a crederci perché ragazzi con i club inglesi non si può mai sapere, può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro, cioè se c'è il prototipo di club inglese cioè il prototipo di club che non funziona, quel prototipo di club è il classico club inglese e i primi due che mi vengono in mente sono Chelsea e Manchester United il giocatore di cui parliamo oggi viene dal Manchester United, ragazzi sto parlando sì di Jadon Sancho, Jadon Sancho in ottica Napoli, avevo in Gianni sei pazzo però ne stanno parlando, ne stanno parlando, sono uscite più e più notizie a questo proposito e ragazzi sarebbe un colpaccio di livelli clamorosi di livelli clamorosi, poi dopo faccio pure una piccola chiosa su una cosa che mi fa leggermente arrabbiare ma poi la dirò, allora ragazzi calciomercato Napoli, l'indiscrezione dagli Stati Uniti CBS, comunque ragazzi parliamo di un portale importante Jadon Sancho e il Napoli, clamorosa suggestione dagli Stati Uniti ad annunciarlo è la CBS c'è già questi nomi accostati vicini, Jadon Sancho e il Napoli mi fanno venire il brividino lungo la schiena secondo quanto riportato dall'emittente americana il giocatore potrebbe lasciare il Manchester United nel pieno della rivoluzione estiva ci sarebbe anche il club azzurro sulle sue tracce acquistato dal Borussia Dortmund per oltre 80 milioni il giocatore ha deluso le aspettative non mostrando mai completamente il suo potenziale oddio, deluso mi sembra esagerato diciamo non è, forse non ha reso quanto il cartellino a spaventare le interessate e l'ingaggio nonché il quarto più alto di tutta la Premier League ragazzi, Jadon Sancho prende 20 milioni di euro gioco questa cosa, il brividino viene a noi viene a me, viene a voi viene a mia mamma che sta di là viene a mio fratello che sta di là e soprattutto viene ad Aurelio De Laurentiis consente 20 milioni di euro cioè è una cosa che sta a maniera che secondo me comincia già il lo sentite? lo sentite il il cafunometro? come sta impazzendo? ma lei è un cafunio con tutti questi sordi? 20 milioni di euro un giocatore Aurelio De Laurentiis non li darà neanche nel 3566 quando lui sarà vivo non ci sarà nessuno di noi ci sarà più lui sarà vivo sarà meglio di tutti noi sarà un amore lui ci sarà l'inflazione i prezzi proprio alle stelle alle stelle però lui ragazzi fidatevi 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 al 100% mai mai 20 milioni mai 20 milioni è chiaro che per la politica di ADL servirebbe una percentuale altissima pagata del Manchester United ed è esattamente quello che io dicevo quando parlavo di quando parlavo di politiche pazze del Manchester United solo così forse si potrebbe pensare ad una soluzione del genere questa è una delle notizie ragazzi ne ha parlato anche il mattino pazza idea sancio emissari in Inghilterra per seguirlo potrebbe lasciare il Manchester United già quest'estate il Jadon Sancho in mezzo a quella rivoluzione che il club inglese è pronto ad attuare per il ritorno in Champions League in grande stile e secondo ovviamente prendono quanto riporta la CBS e poi aggiungono Sancho a 23 anni è arrivato nel 2021 allo United Borussia Dortmund per oltre 80 milioni un affare simile a quello di Ndombele al Tottenham qualche anno prima questo è quello diciamo che è stato è stato pagato tanto come Ndombele è stato pagato tanto dal Tottenham poi Ndombele è venuto a Napoli con una percentuale pagata dal Tottenham un prestito mi pare oneroso a un milione se non erro o forse era proprio prestito senza non prestito oneroso prestito con diritto di riscatto semplice non mi ricordo potrebbe essere un affare di mercato per tutti ma poi c'è la questione dei 20 milioni di euro all'anno però emissari in Inghilterra per seguirlo si parla di Napoli con Paris Saint Germain e Tottenham sulle tracce del giocatore ovviamente ragazzi se non conoscete il giocatore non so dove abbiate vissuto in questi anni parliamo di un classe 2000 di 23 anni di 23 anni nell'età mia 2000 25 marzo 2000 è più giovane di me è più giovane di me è nato un mese e mezzo circa dopo di me il buon Jadon Sancho sono del 9 febbraio lo so ragazzi sembra un vecchio però vi giuro che sono del 9 febbraio 2000 attuale valore di mercato 55 milioni di euro direte voi che dobbiamo fare con Sancho quello gioca a sinistra sulla sinistra abbiamo Kvara allora ragazzi vediamo il presupposto i giocatori forti vanno presi sempre sempre soprattutto in attacco perché in attacco una soluzione la si trova sempre con i giocatori forti la soluzione lì davanti la trovi in qualsiasi caso se tieni un bravo allenatore la trovi in qualsiasi caso Jadon Sancho parte nella sua carriera diciamo nelle giovanili come un ala sinistra è vero però col Borussia Dortmund si è evoluto anche sulla destra complice anche la presenza di Marco Reus dall'altra parte però lui si è evoluto tanto sulla destra ha fatto molto bene anche sulla destra adesso lui è capace di giocare praticamente dappertutto anche sulla tre quarti però principalmente sulla destra e sulla sinistra sulla destra predilige l'assist è uno che sa mettere molto bene il pallone dentro sulla sinistra uno che rientra che fa gol però uno che sa svariare su tutta la tre quarti e che secondo me conquara da una parte e lui dall'altra che magari si invertono e fanno il bello e il cattivo tempo sarebbe un attacco clamoroso e secondo me potrebbe essere veramente un colpaccio di livelli incredibili tra l'altro basta andare a vedere anche le statistiche penso che ci siano le statistiche io ho abbastanza l'ora ecco qua Jadon Sancho ha giocato dalla sinistra 131 partite facendo 47 gol e 38 assist da alla destra ne ha fatte 92 facendo 30 gol e 37 assist sono numeri comunque eccezionali ragazzi uno dotato di un grande dribbin uno che tiene quella saraccata quel tiro potentissimo è un giocatore veramente molto forte non c'è bisogno ovviamente che lo dica io secondo me chiunque dovesse riuscire a prenderlo magari in prestito con il prestito con un diritto di riscatto non troppo elevato se il Manchester United se ne vuole liberare lui deve ovviamente incominciare a pensare a diminuirsi l'ingaggio perché altrimenti difficilmente riuscire a trovare qualcuno che lo faccia giocare il suo contratto scade nel 2026 non dico ragazzi di scendere cifre ridicole però già 7-8 milioni che sono comunque fuori portata per il Napoli possono essere possono incominciare ad essere almeno un ragionamento più sensato 7-8 milioni con una parte che la paga il Manchester United magari inizi con uno stipendio più alto per poi andare a scendere perché chiaramente passare da 20 milioni a 7-8 milioni anche fiscalmente non è il massimo e non è facile poi gestire certe cose dipende poi se è stato intelligente con i suoi soldi perché molti giocatori non sono intelligenti con i loro soldi non si sanno muovere in maniera eccezionale però ragazzi il solo pensiero di avere Jadon Sancho a Napoli a me casa tantissimo qual era la parentesi che volevo fare sul fatto di essere la parentesi in cui mi arrabbiavo ed è un problema che abbiamo qui in Italia purtroppo perché ragazzi Jadon Sancho è nel calcio che conto ormai da 5 anni avete letto i numeri no? 47 gollo 38 assist 30 gollo 37 assist 5 cioè parliamo di uno che in carriera ha fatto in totale 260 partite 86 gollo 81 assist in Champions League in Premier League in Bundesliga cioè parliamo di uno che ha già viaggiato ed ha 23 anni sapete chi altro ha 23 anni se non addirittura 24 mi pare addirittura 24 però viene considerato giovane nulla contro di lui 24 anni assolutamente nulla contro di lui Alessio Zerbin viene considerato giovane a un anno in più di Sancho a un anno in più di Sancho questo è quello che mi infastidisce chiamare giovani dei calciatori che semplicemente non hanno ancora dimostrato e quindi li chiami giovani non sei giovane a 24 anni non sei per niente giovane sei giovane puoi essere considerato giovane a 24 anni sei fatto quello che è stato fatto magari da Sancho sei fatto quello che è stato fatto da un papì puoi dire ancora giovane ma non sei un giovane c'è una grande differenza su queste cose e niente questo è quanto ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete Facebook Instagram Twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche G7 Shorts il mio canale pubblico teleclippo enti codici momenti di ritornare del canale e tu preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque tutta la vita Forza Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti